Musica Tutti sapete bene che stiamo vivendo in un momento di mercato non tra i più favorevoli, sicuramente i piani di sviluppo rurali che stentano a partire, i prezzi del latte e della carne non ai massimi storici, ma direi se non ai minimi comunque a dei livelli non sufficienti per gli sviluppi delle aziende, sicuramente seppur all'interno di questo scenario non esaltante devo dire che l'affluenza di pubblico è stata notevole e anche devo dire l'interesse della gente sicuramente è molto, nel senso che la gente in effetti ha bisogno di sviluppare le loro aziende proprio per essere pronti a far fronte a queste situazioni di difficoltà del mercato. Quindi la tecnologia è sicuramente uno degli strumenti che servono per poter vincere questa difficile battaglia.